Conferiamo a Giulia Cecchettin la laurea in Ingegneria Biomedica e con questo rilasciamo il diploma. Congratulazioni giute. È il giorno della laurea postuma per Giulia Cecchettin, quella aspirante ingegnera biomedica con la passione per il disegno che voleva diventare illustratrice di libri per l'infanzia. Un giorno che non ha mai potuto vivere i sogni spezzati per sempre da chi non ha accettato la sua decisione di essere libera. Un femminicidio che ha scosso l'intero paese ha fatto rumore. Per citare le parole della sorella Elena, da caso di cronaca è diventato momento di riflessione politica sulla società, sui diritti delle donne, sull'educazione affettiva, su una cultura che per qualcuno sarebbe ancora troppo improntata sul patriarcato. Quello che è certo è che oggi a ricordare Giulia, oltre ai vertici accademici, sono stati la famiglia e i suoi amici. Giulia che continua a infondere coraggio in tutte quelle donne e quelle ragazze che si trovano a dover combattere contro violenze e soprusi, come la sedicenne di Latina, che in un tema dedicato a Giulia ha rivelato gli abusi che subiva dall'ex fidanzato, una richiesta d'aiuto che i suoi insegnanti hanno immediatamente colto, denunciando il ragazzo, anche lui adolescente, e che adesso, su disposizione del Tribunale per i minori di Roma, dovrà restare in casa, lontano da quella ragazzina a cui aveva reso la vita impossibile.